Passiamo a una cantante francese che ha in questa settimana il numero uno in Francia con un brano che si chiama Do It For Me. La cantante francese si chiama Jennifer. Prendiamo questo microfonino. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Scusa un istante, volevo dire una cosa agli ascoltatori. Vedete come in Francia fanno le cose con più professionismo. Jennifer è una cantante di voce, eccetera. Cioè l'aspetto purtroppo è quello che è, non è certamente... Però in Francia proprio non interessa questo fatto. Loro mandano un cantante così, un vero cantante, una vera cantante bravissima, ignorando l'aspetto della cantante. Cioè, è vero, no? Cioè, dico... Hai capito cosa ha detto? Solamente i complimenti. Voi avete un molto bello cravatto, io trovo. Ah, sì, bo, ovvio. Questo peccato che non è a colori, ma comunque. C'è Lauzzi che mi sta facendo cieni disperati. Non posso fare niente, Lauzzi. E lo so, non ti posso presentare un cantante italiano. Io trovo che si fa molto bello, è meraviglioso il Roma, è superbe. È bella Roma, sì, sì. Oddio, lei non è che... Voi avete giù a tennis? Come, scusa? Voi avete giù a tennis? Sì, sì. Lauzzi, non posso... Vuoi chiederle il presente? Guarda, questo è un cantante italiano, Lauzzi si chiama, molto famoso. C'è una pietra emiliana, abbiamo detto prima. Jennifer è una cantante francese. Vedi come ci insegnano. Cioè, loro non gli importa niente dell'aspetto. Questa è una cantante radiofonica, praticamente. Dì, non ho mai visto una cantante così. Ecco, sì, come te lo dici, scusate. Lauzzi, ormai, bene che ti vada a sedere, carino. Ha detto, no, no, con gli stironi un po'. Lui conosce tutti questi cantanti. Voi li conosce molto bene, mi parlo di voi, d'ailleurs. Hai capito? Oh, oh. Va bene. Ragazzi, qua, l'importante è cantare bene, vero Jennifer? Poi l'aspetto, se non hai il physique du role, pazienza. Il tuo brano si chiama Do It For Me, vero? Questo è il microfono italiano. Ecco, Do It For Me, vero? Sì. Vogliamo cantarlo? Io canto adesso per il microfono. Sì, sì, non senza microfono. Va bene? Prego. Mamma mia, Lauzzi. Sì, 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 sì. Mamma mia, Lauzzi. 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 Do it for me. Wow. Sugar, sugar, give me your attention. Honey, honey. Give me your affection. Baby, do it for me. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501